Buongiorno e ben ritrovati. Janet Sinner supera il primo turno contro un tennista statunitense McKenzie McDonald che gli ha sempre creato delle difficoltà. Anche negli incontri precedenti era sempre riuscito a strappargli un set. Abbiamo visto quindi un inizio di match molto difficoltoso per Yannick Sinner. Era molto contratto, molto teso, molto per merito di McKenzie McDonald che ha disputato un primo set ad altissimi livelli con colpi molto rapidi, con una capacità di lettura anche del gioco di Yannick Sinner, ma anche probabilmente per il carico che Yannick Sinner si è portato sul campo dopo la pubblicazione ufficiale di tutto quello che gli era successo. perché ricordiamoci che gli USA per Sinner sono stati proprio preceduti da questa comunicazione ufficiale e appunto relativa all'accusa e al processo di doping. Per cui sicuramente c'è stato un insieme di fattori. Ricordiamoci che fra l'altro l'atmosfera da spogliatoio sicuramente non è delle più semplici perché molti tennisti, alcuni tennisti, si sono espressi non proprio in maniera in netto contrasto con i confronti di Yannick Sinner, però insomma lui stesso ha ribadito che in questi momenti si capisce insomma quali sono i veri amici oppure no. Quindi insomma è entrato in campo con una notevole tensione, l'abbiamo visto, abbiamo insomma ci siamo anche un po' preoccupati perché McDonald's ha dominato per quasi un'ora, circa un'ora il match e poi se non fosse poi così McDonald's sarebbe poi fra i primi 15 del ranking e invece è oltre i 100. Quindi insomma dopo c'è stato proprio un ribaltamento del match, Sinner ha cominciato per fortuna insomma riacquistare la sua sicurezza, la sua padronanza del gioco e dall'altra parte McDonald's ha proprio mollato, decisamente mollato. Quindi è stato poi un match abbastanza in discesa per il nostro numero uno che quindi supera il primo turno e quindi insomma lo vediamo ovviamente insomma proseguire nel grande slam. Aggiungo anche se sono minuti dedicati a Yannick Sinner ma abbiamo veramente tantissimi italiani che hanno superato il primo turno fra cui una una parole di grande prestigio vanno sottolineate per Mattia Bellucci che supera per la prima volta un primo turno in un grande ATP. Una grande prestazione contro Pavlinca fra l'altro un ottimo giocatore quindi bellissima prestazione, bellissimo traguardo di Mattia Bellucci oltre alla Paolini che anche lei ha battuto e non ha un tabellone facile la Paolini assolutamente, ha battuto l'Andrescu una partita tostissima fino all'ultimo ma la Paolini è veramente inossidabile quindi anche lei supera il primo turno come abbiamo visto nell'altro giorno Musetti, Cobolli anche e Arnaldi quindi insomma spero di non essermi dimenticato a qualcuno perché veramente sono in tantissimi, abbiamo un momento, stiamo vivendo un momento del tennis italiano meraviglioso. Quindi detto questo proseguiamo dunque oggi ci sarà il secondo turno di Musetti alle 20 e 15 circa, non ricordo, onestamente non ricordo contro chi gioca però ecco chi vorrà collegarsi e vedere il suo match sarà intorno alle 20 e 15 e 20 e 30. Sicuramente ce ne saranno anche degli altri ma ci sono poi gli orari molto notturni quindi chi vorrà poi rimanere sveglio ma potrà proseguire e vedere anche altri match. Alla prossima!